Rullo di tamburi, che la competizione abbia inizio! Siamo alla prima resa dei conti amici, perché Nvidia ha finalmente fatto uscire dalla versione beta il suo servizio di cloud gaming GeForce Now e quindi abbiamo un primo confronto diretto, cioè tra GeForce Now e Google Stadia o Stadia, chiamatela come volete! Quindi in questo video vediamo le caratteristiche dei due servizi offerti e andiamo a decretare, almeno sulla carta, qual è il vincitore già perché in questa fase non parlerò delle prestazioni in sé, anche se devo dire che comunque sono molto comparabili però sto facendo anche dei test avanzati, quindi probabilmente ci tornerò però appunto, visto che le prestazioni sono come detto più o meno comparabili, vediamo qual è dei due il migliore Entrambi offrono un abbonamento gratuito, però con alcune sostanziali differenze GeForce Now limita le sessioni di gioco a un'ora per sessione Questa non significa che potete ad esempio giocare solo un'ora al giorno ma significa che ogni sessione non può essere più lunga di un'ora quindi se voi volete ogni volta spegnere la sessione e accendere un'altra potete giocare tutte le ore che vorrete però, come dire, non è proprio al massimo Per controparte, Stadia non limita la durata delle sessioni Nella sua abbonamento gratuito limita solo la risoluzione a 1080p 60fps che non è diversa da quella di GeForce Now Direi che per iniziare do un punto a Stadia per quanto riguarda la qualità e quello che offre nel suo abbonamento gratuito Soprattutto perché non necessita nemmeno, come accade invece con GeForce Now, di attendere la coda e soprattutto in questa prima fase, con tanti utenti che la stanno provando spesso non si riesce nemmeno a collegarsi e comunque bisogna fare diversi tentativi I piani di abbonamento a pagamento costano per GeForce Now poco più di 5€ al mese mentre per Stadia poco meno del doppio quindi insomma circa 10€ L'abbonamento Founders di GeForce Now quindi offre sessioni di gioco fino a 6 ore 3 mesi gratuiti e la possibilità di utilizzare i giochi, quelli compatibili, in modalità di rendering con il ray tracing Stadia invece per il piano in abbonamento vi permette di arrivare fino alla risoluzione 4K 60fps ovviamente non c'è nessun limite sulla sessione di gioco per quanto riguarda la risoluzione però devo dire che non l'avrete su tutti i giochi questa dipenderà unicamente dalle volontà dello sviluppatore e nella maggior parte dei casi per quanto abbiamo visto fino ad ora si tratta addirittura di un upscaling del 1080p in questo caso il mio punto va a GeForce Now prima di tutto perché costa la metà almeno per il primo anno però insomma è un bel periodo di tempo dopodiché io penso che le 6 ore di sessione di gioco non siano un problema anche in questo caso potete poi avviare un'ulteriore sessione però giocare più di 6 ore per sessione al giorno insomma è veramente tanto quindi non penso sia limitante e credo che la risoluzione 4K offerta in più da Stadia non è veramente determinante in questo momento prima per i motivi che ho detto che non l'avrete sempre non l'avrete nativa e poi consideriamo anche lo stato delle connessioni italiane che non tutti riescono a supportare chiaramente il 4K senza problemi dico quindi che quanto offre GeForce Now ora è più che adeguato e il mio punto va per Nvidia questo punto fa una grande differenza secondo me GeForce Now vi permette di giocare a tutti i giochi che già possedete sulle altre piattaforme Steam, Uplay, Origin e via discorrendo i giochi su Stadia invece devono essere acquistati e funzioneranno unicamente su Stadia certo Stadia offre un paio di giochi gratuiti al mese ma ciò accade anche appunto con le altre piattaforme quindi insomma non cambia molto e di conseguenza la libreria di giochi disponibili ad oggi su GeForce Now è nettamente nettamente superiore a quella che offre Stadia e inoltre questo approccio significa che potrete anche condividere ad esempio salvataggi iniziare magari un gioco sul PC e poi continuarlo su GeForce Now non ho dubbi ancora una volta in questo caso il mio punto va al GeForce Now entrambe sia Stadia che GeForce Now possono essere utilizzate su multi piattaforma quindi dal PC ai tablet agli smartphone ma GeForce Now può essere realmente utilizzato su tutti quei dispositivi cosa che Stadia ancora non offre perché al momento ci sono ancora molte limitazioni sui dispositivi che realmente possono essere utilizzati per accedere al servizio di Stadia. Inoltre con GeForce Now potete avere sessioni multiplayer con tutti i giocatori quindi se utilizzate quel gioco non gli importa servizio se i giocatori con cui giocherete stanno utilizzando quel gioco su PC o su un'altra piattaforma mentre per quanto riguarda Stadia il multiplayer è concesso ma unicamente con altre persone che hanno Stadia anche in questo caso il mio punto va a GeForce Now perché offre un grado di libertà decisamente superiore non posso non ricordare che ancora ora Google Stadia non è realmente gratuito dovrete aspettare non si sa quanto alcuni mesi speriamo pochi per accedere veramente al servizio gratuito perché se volete accedere ora a Stadia dovete comprare quello che ora si chiama Premier Edition costa 129 euro, certo vi danno un Chromecast e un Joypad però è il prezzo d'ingresso che dovete pagare per accedere ora a Stadia. GeForce Now invece è già gratuito in questo momento è utilizzabile potete fermarvi ora e andare a registrarvi e utilizzarlo nella sua versione gratuita o a pagamento non credo sia necessario assegnare ulteriori punti visto che non cambiano la situazione ma chiaramente il vantaggio economico in questo momento offerto dal sistema Nvidia è nettamente superiore per quanto riguarda le prestazioni e la qualità video per quanto ho provato fino ad ora non ci sono un granché di differenze l'elemento molto differenziante è la connettività se avete una buona connettività, una buona connessione ad internet potete utilizzare entrambi i sistemi senza particolari problemi se la vostra connessione è un po' scarsa beh non sarete soddisfatti su nessuno dei due con una FTTC a 40 mega in down all'incirca 10-20 in up dovreste stare abbastanza tranquilli l'unico consiglio che vi posso dare è laddove possiate utilizzate sempre una connessione cablata per avere il massimo delle prestazioni e il minimo dei ritardi se avete appunto dubbi sulla connettività di casa vostra vi esorto a fare delle prove se volete fare delle prove con dei giochi reali non solamente i test offerti ad esempio da Stadia provate chiaramente la versione gratuita di GeForce Now che potete già come dire mettere le mani realmente sul servizio quindi direi che sotto questo profilo per ora mi sento di dare non decretare un vincitore quindi insomma un punto ciascuno la situazione non cambia in questo momento non ho dubbi per me il sistema migliore ora è GeForce Now e vi esorto proprio a provarlo anche nella sua versione gratuita per farvi un'idea e comunque ricapitolando per me è il sistema migliore per questi motivi costa la metà di Stadia anzi se consigliamo i 129 euro che dovreste sborsare ora se volete accedere al servizio di Google costa infinitamente meno la libreria di giochi è decisamente più grande quella di GeForce Now e oltretutto non dovrete acquistare nuovamente i giochi anche se già li avete se volete utilizzarli su Stadia potete poi utilizzare anche per i giochi compatibili la versione in Ray Tracing quello che manca a GeForce Now è la risoluzione 4K però io credo che in questo momento non sia veramente determinante anche perché abbiamo visto come è poco ancora implementata anche nei vari giochi disponibili su Stadia e tra il 4K e un 1080p con Ray Tracing secondo me la parte di Ray Tracing oggi potrebbe darvi più soddisfazione per completezza di informazioni io però mi sono fatto un'idea sulla persona tipo che potrebbe preferire Stadia a GeForce Now o comunque la differenziante tra i due sistemi se non avete una console, non avete un pc, non avete nulla con cui giocare ecco probabilmente Stadia in questo momento potrebbe essere un sistema da considerare perché tanto dovreste ugualmente acquistare qualcosa e quindi la Premiere Edition che vi dà l'hardware per giocarlo l'avrete ugualmente bisogno e probabilmente siete in questa condizione non avete acquistato già in passato nessun gioco su nessuna piattaforma quindi per chi vuole entrare nel mondo dei videogiochi con un sistema chiaramente economico e può utilizzare in diverse situazioni in tutti gli altri casi invece se siete già giocatori e volete entrare nel mondo del cloud gaming al momento GeForce Now è la scelta più intelligente io amici vi ringrazio per avermi seguito in questo video ditemi anche la vostra chiaramente questa è una mia opinione basata sui dati che ho analizzato mi piacerebbe sentire anche la vostra opinione grazie per avermi seguito, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale vi aspetto anche sui miei social e podcast e noi ci vediamo in un altro video ciao